Grande performance dell'attrita Saretino dell'Unione Atletica Valtrompia Davide Bottarelli alla classica 5 Castelli Wine Trail organizzata dall'Atletica Berizzole. Bottarelli è stato il dominatore della gara maschile lungo il bellissimo percorso di 16 chilometri e 500 metri che ha attraversato i vigneti tra asfalto, prato e terra. Più di 600 i partecipanti con la gara competitiva riservata a 204 atleti. Il ragazzo Valtrompino si è involato appena dopo la partenza e non è stato più raggiunto andando a chiudere la gara con il tempo di 59 minuti e 13 secondi. Dietro a lui staccato di una cinquantina di secondi Andrea Bonetti, terzo Alessio Cappa. Tra le donne è successo invece dalla portacolori dell'apparatico Simona Angelini.